Ercolaneum Experience La collaborazione tra la regione Campania attraverso Scabec e il parco archeologico e il comune di Ercolano l'iniziativa si inserisce nel quadro della programmazione Campania by Night che si sviluppa in tantissimi siti archeologici della nostra regione e che dà l'opportunità ogni anno ormai per tradizione a tutti coloro che vogliono fruire di queste meraviglie in un modo più innovativo e più suggestivo dà la possibilità di farlo anche nei mesi estivi, anche nei mesi tradizionalmente delle vacanze.